Ciao a tutti ragazzi, io sono Rocky Random Porco, state zitti Rifalla Ciao a tutti ragazzi, io sono Rocky Random E sono qua con Rocky Random Per questo nuovo Rocky Random Let's start get... Dai mettiamo una mail fittizia Beh l'intro ce l'abbiamo ragazzi Vai gongolo Aspetta gongolo Ok gongolo Aspetta gongolo Ragazzi scusate Se ti svegli No Tiro fuori la rosta adesso Vabbè ragazzi fa schifo questo test E ci vediamo nel prossimo video Ciao ragazzi Dai abbiamo questo Gioca gioca Cosa ti attrae di te Allora Che cazzo è la stabilità Io sono un bravo ragazzo Perché la felicità comprende tutte le altre cose Se fossi un animale dove preferiresti vivere? Nella giungla? Non c'è la giungla Cos'è diventato il calcio? Una giungla Beh nella grotta è un po' deprimente Cosa vuoi dire? Una foresta Oh mi piace la foresta La foresta Seminimale Cosa è la tua caratteristica peggiora? La mia? Sì Sono viva Non scherzo All'agua Vediamo se c'è Eccola Sono molto naiv Cosa vuol dire naiv Vuol dire qualcosa di qualcosa Beh mettiamo sono molto naiv Vabbè L'Antigone di Sofoco Il dramma di Oedipo Che è padre di Antigone Scusate E la tua caratteristica migliore? Sì Sì Molto nobile Tu sei Piero Angela? No sono Alberto Non c'è Sono Piero Angela È un po' più gioco Sono Alberto Piera Non c'è sono Piero Angela Com'è Piero Angela? Dimmi una caratteristica di Piero Angela È saggio Sex? C'è sex? No non c'è È saggio come il Teo Vabbè Mettiamo saggio allora Diciamo che hai fatto un errore A prescindere dalla situazione Come lo sistemeresti? No Cerco di raccogliere? Beh lo scopriamo solo in te Le idee Era il cerco di raccogliere Cosa temi di più? Fallimedo temo solo di io Essere odiato solitudine e malattie Essere ordinario Fallimedo Bella Bella Ora scegli un colore C'è il verde Allora fa come un regolo C'è neanche il verde Mettì Mettì Marrone Giallo Giallo e rosso Porta il testo è finito a letto Ma scegli un posto buio, comodo, dove russare non dormo molto grande e ampio, non importa non importa che schifo c'è ancora sei scaltro, timido, un po' inquieto ma la tua caratteristica più critica è non riuscire a essere in armonia con gli altri praticamente mi hai detto che sono una sociale schifosa visto perché è un modo diverso di vedere le cose, è una mente diversa non riesci a fare pace, ma d'altro canto questo è ciò che ti definisce, ti separa dagli altri se non hai molte vie di mezzo, se ami qualcuno lo ami completamente se odi qualcuno, lo odi completamente infine non dimentichi mai gli errori fatti nei miei confronti e che questo sia da aver dimentiché a chi ti fa torto torto, corpo vecchia, un fatto l'assonanza statistica ma l'abbiamo fatta a caso no, ma è uno spoiler degli altri animali torco ma ragazzi, con questo video è tutto ci vediamo e facciamo un video ciao ragazzi ciao 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 ciao